A Dubai e nel Golfo Persico le alte temperature a volte sono difficili da sopportare e ancora più che gli umani fanno soffrire gli animali. Per questo c'è chi ha pensato di aprire un parco climatizzato dedicato espressamente ai cani, quello appena inaugurato nell'Emirato il più grande esistente al mondo. L'idea ci è venuta mentre ci divertivamo attorno all'agua, abbiamo pensato che le alte temperature facevano soffrire i cani e così abbiamo deciso di aprire un parco coperto per cani con una piscina. Un entusiasmo a prima vista condiviso anche dai padroni dei cani che in un clima difficile come quello del Golfo ora hanno un luogo dove portare il loro migliore amico. Ci sono una cinquantina di persone, ciascuna col proprio cane. Questo è l'unico posto a Dubai dove puoi andare col tuo cane e farlo socializzare. I promotori dell'iniziativa pensano di ampliare presto l'offerta, introducendo anche servizi di toiletta, pedicure e massaggi. Almeno a Dubai la vita da cani non è poi così brutta.